Su Meneghin Pecena di Milano, a Lager, buon tempone giù alla man, perché a questo mondo non abbia altra passione che il Dome, risotto, buzecca e panatone. Però se c'è un bisogno, tu curi anche perché è il mio cuore, l'è più grande di me. Grazie. Grazie mille. Milano fu forse la prima città che istituì un carnevale vero e proprio come lo conosciamo noi, con balli, mascherate e sfilate di carri. E questo fin dall'anno 1000, ai tempi dell'arcivescovo Ariberto d'Intimiano. Durante il rinascimento a Milano, a carnevale era permessa ogni follia, come recita il noto proverbio, a carnevale ogni scherzo vale. E' vero, lo conoscete tutti, perché subito dopo è quaresima e quindi tempo di penitenza. A Milano, ecco qui la curiosità, magari qualcuno lo sa, qualcuno no, dura e durava quattro giorni di più, come stiamo vedendo, noi è il secondo giorno. Come mai? Molti, anche qui magari, pensate che sia stato Sant'Ambrogio, che sia un regalo del nostro patrono, ma non è così. Quindi, anche se una simpatica leggenda racconta, come leggenda, che il nostro patrono fu lui ad allungare il carnevale di quattro giorni, per fare un favore alla sorella Marcellina, che era una monaca superiore in un convento, che poi fu fatta santa. Perché proprio il giorno delle ceneri, cioè come se fosse ieri, a Marcellina morì la mucca, che dava il latte per lei e le sue consorelle. Siccome durante la quaresima era proibito consumare carne, e la mucca non sapevano, dicevano, ma perché, adesso chi come fanno? 40 giorni, non c'erano i freezer e le cose di allora. Allora si rivolse al fratello, ad Ambrogio, che allungò il carnevale di quattro giorni per poterla mangiare. Sant'Ambrogio, sempre secondo la leggenda, partecipò al banchetto, dando luogo al proverbio meneghino, molto noto, fino alla metà del secolo scorso, che diceva in sci, per fare un piesè e per la compagnia, Sant'Ambrogio la mangia una vacca. Ecco, fino agli anni 50 questo proverbio si diceva. Comunque, invece, adesso questa è la leggenda, arriviamo alla realtà. La realtà è che Milano ha mantenuto la disposizione della chiesa delle origini, perché la quaresima non fu sempre di 40 giorni, un tempo ne durava 36, poi nel secolo V Papa Gregorio Magno ne aggiunse 4 per ricordare i 40 giorni che Gesù trascorse nel deserto. Solo la chiesa ambrosiana mantenne l'antica usanza, non accogliendo l'innovazione romana, regalando così ai milanesi un più lungo carnevale. Dunque, non è quindi vero che fu Sant'Ambrogio a volere per Milano il carnevale più lungo da tutte le altre parti, perché sia Sant'Ambrogio, il suo discepolo Agostino e in seguito San Carlo Borromeo, non vedevano di buon occhio che i milanesi si divertissero quattro giorni in più a scapito della quaresima. La Repubblica Cisalpina portò allegrie di popolo, balli attorno all'albero della libertà, sistemati in Piazza del Duomo con il popolo che cantava, facendo il girotondo attorno all'albero della libertà. E diceva, ricordatevi questo, Poi il canto veniva interrotto da un banditore che col tamburo diceva, E poi riprendeva il girotondo e il coro. Lo facciamo assieme? Eh? Dai! Carne va alla rotta il cu! Carne va alla rotta il cu! Che meraviglia! Venda mica il cu si ru! Venda mica il cu si ru! Dan la gugia e il didà! Dan la gugia e il didà! Viva, viva il carneval! Viva, viva il carneval! Siete stupendi! Eh? Grazie! Il coriandolo di carnevale, no? Perché si è bito un addosso in sci per divertimento. Un tempo era un confetto di gesso contenente un semo della pianta di coriandolo. Da qui il nome che era detto anche colandro perché era ottenuto col gesso colato. Ma per i milanesi erano i benis de gesto e i confetti di gesso che più tardi per motivi di sicurezza vennero trasformati in minuscoli dischetti di carta colorata gettati per gioco addosso le persone. Ecco la storia. Nel 1800 era di moda in questi giorni il Juve di Grasse, Sabe Grasse, insomma, di moda lanciare dei carri allegorici durante la sfilata i famosi benis de gesto venduti dai membri della corporazione dei facchini. Alcuni buontemponi pensarono di gettare un altro tipo di coriandoli, cioè delle monete di rame. Tali monete però erano roventi, tolti da un bracere che si trovava sul carro e chi cercava di raccoglierle gridava di dolore ostoniandosi le dita. Naturalmente, diciamo, per tali coriandoli i divieti erano molto severi e chi veniva colto sul fatto era severamente punito. era punito anche chi eccedeva nel confezionare i famosi benis de gesto, mescolando al gesso pietre o altro che causavano bernoccoli a chi era lì a vedere la sfilata dei carri, tanto che fu inventato il cosiddetto umbrel del Sabe Grasse, l'ombrello del sabato grasso che serviva da riparo, insomma. La maggior parte dell'Ottocento andava con l'ombrel del Sabe Grasse a vedere la sfilata, sennò pigliava delle cose in testa. A porvi rimedio ci pensò un certo Enrico Mangili, che durante un carnevalino dei bambini al teatro della Cannobiana, che oggi è il lirico, sperimentò i coriandoli di carta ottenuti forando della carta da macero dai vari colori. Pare che si sia ispirato guardando i pezzettini di carta che cadevano dai buchi che venivano fatti nella carta oleata, dove venivano posati i bacchi da seta. L'idea ebbe successo e il piccolo coriandolo di carta colorata sostituì il micidiale Beniz de Gess. Il Mangili, pensate, ideò anche, l'avete visto qui sul tavolo, le stelle filanti, ispirandosi questa volta alla strisciolina di carta del telegrafo. Nel 1630 nacque a Milano Carlo Maria Maggi, il creatore della maschera di Meneghino. Alcuni sostengono che questa maschera sia stata trovata dal Maggi tra quei servitorucci con certe dame nobili, ma con pochi mezzi prendevano a paga solamente la Domenica, da cui il nome Domenichino, poi è diventato Menichino e infine Meneghino. Il suo compito principale era quello di precedere la carrozza della dama, quasi modesto battistrada, di aprire lo sportello e di aiutare la dama a scendere. Due secoli dopo a Meneghino venne data in moglie la cecca, altra popolana di Porta Ticinese. Era detta da tutti la cecca di Berlinghitt, cioè i ninnoli, Berlinghitt sono i ninnoli, per l'abitudine di agghindarsi con fronzoli e ordamenti vari. La vera figura del Meneghino verrà rappresentata due secoli dopo dal suo più grande interprete, il Moncalvo. Moncalvo identificò se stesso in Meneghino, gli diede il suo cuore, la sua pronta e sagace percezione, l'arguzio ammordente e l'inclinazione alla satena. Nel 1859 aveva fatto annunciare che sarebbe apparso per l'ultima volta la ribalta, con la commedia del Porta, Viaggio da Biggiù, Porte Grossi, da lui messo a posto. Vivere all'attesa per salutare ancora il suo beniamino, ma colto da malore, dovete farsi sostituire all'ultimo momento e il 29 agosto del 1859 morì. Ecco il suo testamento spirituale. Lascio il corpo alla terra, lo spirito a Dio, il cervello all'Italia e il cuore a Milano. Dice un proverbio, ogni anno il suo carnevale manca la sua quaresima. Lo si dice con rassegnazione alludendo al trascorrere lieto ma anche triste del tempo. Passate le ceneri, finito il carnevale ambrosiano, eccoci alla prima domenica di quaresima, che è la quaresima e la preparazione alla Pasqua. Ecco due simpatici modi di dire. Viene fa, avurè credati, vien le nanca obbliga a fa quaresima. Cioè a dar credito alle tue frottole, non sei nemmeno obbligati a rispettare il precetto quaresimale del digiuno. Questo lo si dice di un individuo astuto e imbroglione. E un altro, fa, teme paret una quaresima. E lo si dice a una persona sempre malinconica e triste. Noi non lo siamo. Io vi auguro un buon carnevale, un buon samato grazzo e grazie dell'attenzione che mi avete prestato. Grazie. Dice. Grazie. Grazie a me. Grazie. Grazie.